Le vittime prescelte sono spesso gli anziani. Più volte infatti vi abbiamo raccontato di donne avvenenti che hanno cercato di raggirare gli uomini, così come ha fatto la 44enne pluri pregiudicata denominata sexy ladra che ha colpito in varie zone della provincia di Pesore Urbino. E la dinamica più o meno è sempre la stessa. Si avvicinano agli uomini prescelti, spesso di età avanzata, assumono qualche atteggiamento provocatorio e promettono prestazioni sessuali, ma intanto, con destrezza, si impossessano di oggetti d'oro. Ultimo episodio a Cagli, dove, anche in questo caso, un'altra donna è riuscita a sfilare la collanina ad un anziano. Ma le truffe possono essere di vario genere, come è accaduto ieri alla signora di 93 anni, contattata telefonicamente da finti avvocati che chiedevano soldi o gioielli per un incidente mai accaduto in cui sarebbe rimasto coinvolto il figlio dell'anziana. Noi chiediamo la collaborazione del cittadino perché a fronte di richieste anomale, ovvero viene millantato un incidente o un problema da parte di familiari e a seguito di questo fatto c'è sempre una richiesta di denaro. A fronte di questa richiesta noi chiediamo l'immediata collaborazione del cittadino nella misura in cui deve assecondare apparentemente la richiesta, avvisarci immediatamente e metterci nelle condizioni di esserci quando dovrebbe avvenire questa consegna di denaro. Questo ci consentirebbe ovviamente di arrestare in flagranza di reato i truffatori. Il problema però non sono solo le truffe, ma anche i furti, sebbene in diminuzione rispetto allo scorso anno. A Fossombrone nei giorni scorsi è stata individuata dai militari una zingara originaria di Zagarolo, un comune di Roma, facente parte di una banda composta da altre tre donne che agiscono in gruppo per mettere a segno i furti. D'altra parte per cercare di contrastare questi reati predatori, i carabinieri della compagnia di Fano garantiscono sul territorio tre pattuglie al giorno per singolo turno con l'obiettivo di intervenire in tempi rapidi. Se ci sono delle persone sospette, delle persone non abitualmente osservate sul territorio, è importante comunicare e dare indicazioni precise sulla dinamica, su quello che si è osservato, dare una descrizione esatta della persona, magari sarebbe anche utile rilevare il numero di targa della macchina. Ovviamente in questo la tempestività gioca un ruolo fondamentale, quindi a fronte dell'osservazione di un fatto anomalo, l'immediata comunicazione. Grazie a tutti.